Buongiorno a tutti sono Francesco Giberti CEO e Founder di Babaco Market. Il team di Babaco Market è un team altamente schillato ad oggi composto da 18 persone con alle spalle importanti esperienze sia in ambito tech sia all'interno di grandi aziende di consulenza e finanziarie. Io nasco come consulente legale, ho fatto due anni circa di esperienza all'interno di una grande società di consulenza, dopodiché ho fondato a 28 anni la mia prima startup, sempre in ambito food. È stata un'esperienza molto positiva che è culminata appunto in un exit nel 2021. Con me un grande amico Luca Masseretti, lui forte sulla parte finanziaria, anche lui founder prima di MyFood insieme a me e adesso di Babaco Market e insieme a noi la prima linea è composta da persone appunto con ottime esperienze alle spalle. Beatrice Castellani, proveniente da Amazon, è a capo dell'operation di Babaco. Francesca Mori, in ambito marketing, ha alle spalle 6 anni l'esperienza in subito.it e prima in RCS. Luca Carotenuto, CTO di Babaco Market e prima di MyStudy, ha lavorato in un'importante società di consulenza tecnologica come Reply. Capo acquisti Francesca Bonacina, anche lei con alle spalle importante esperienze in ambito acquisti. Ovviamente il team è una componente fondamentale in qualsiasi azienda, ancora di più in una startup. Quello che è fondamentale è continuare ad essere in grado di attrarre talenti in modo tale da poter crescere in modo sostenibile, essere in grado di far fronte a crescite importanti in breve tempo e soprattutto creare una cultura aziendale che sia fondamentale appunto per continuare questo tipo di attrazione anche in futuro.